Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, un'edizione del TV giornale che sarà ampiamente dedicata al 77esimo anniversario della liberazione, il 25 aprile, celebrato non solo in città a Ferrara, sentiremo le testimonianze di istituzioni ma anche di semplici cittadini, di persone che hanno seguito il momento, insomma, come vuole la tradizione in piazza sul listone, insomma, a Ferrara, ma andremo anche in provincia e poi anche la cultura, il momento della cultura e naturalmente anche il bollettino Covid dove si registra un forte calo di contagi rispetto alla giornata di ieri ma purtroppo con un nuovo decesso. Però apriamo il nostro TV giornale appunto parlando dell'anniversario della liberazione, 77esimo anniversario questa mattina in piazza Cattedrale, già alle 10, l'alza bandiera con gli onori militari, poi la deposizione di corone dall'oro al sacrario dei caduti per la libertà alla Torre della Vittoria da parte delle massime autorità, cittadini e militari, delle associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma. Subito dopo la cerimonia ufficiale, con diversi interventi, c'è stata la funzione religiosa che si è tenuta nella chiesa di Santo Stefano in piazza Sant'Etienne, però dicevamo diversi gli interventi stamattina in piazza, tra questi anche quello del ministro Patrizio Bianchi, ministro dell'istruzione del sindaco di Ferrara, Alan Fabri, che sentiamo ai nostri microfoni. Il 25 aprile è una festa di tutti, di tutta l'Italia, di tutte le fazioni politiche che hanno combattuto contro il nazifascismo. Oggi ho visto una piazza con tante persone, si è risentito ovviamente la voglia di festeggiare questo momento in questa splendida cornice. Sono stato anche molto contento e orgoglioso di avere la presenza del ministro Bianchi, che non è mai scontata con tutte le cose che deve fare, quindi credo che sia un momento bello per tutta la città. Per la prima volta anche la brigata ebraica? Sì, abbiamo avuto l'onore di avere il labaro della brigata ebraica, è una cosa a cui tenevo molto perché tanti giovani ebrei, italiani e non, combatterono per la nostra libertà e quindi credo che sia per noi motivo di vanto avere la loro presenza qui con noi in piazza. Io credo che il 25 aprile sia giustamente il momento in cui facciamo la storia, ma dobbiamo ricordare anche come con quella storia ci ha permesso oggi di essere di fronte alla tragedia dell'Ucraina attivi. Abbiamo raccolto quasi 20.000 bambini nelle nostre scuole e quindi grazie veramente a tutte le nostre scuole. Ecco, ricordare ai ragazzi l'importanza della libertà. Ricordare la libertà vuol dire ricordare anche la liberazione, cioè la libertà non è un dono che cade dagli alberi, la libertà è una conquista. E ricordare oggi che è necessario, ieri come oggi, continuare a volere la libertà, vuol dire anche impegnarsi attivamente nella vita collettiva. Non solo per non dimenticare, ma anche per costruire qualcosa di nuovo. Tra gli interventi in piazza anche quello del presidente dell'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani Sezione di Ferrara, e della presidente della consulta provinciale degli studenti. Sentiamo anche loro. Non aver paura del diverso, perché porta solo a guerre, a terrore, a paura, a conflitti, e di mantenere la pace il più possibile, essere attivi a livello sociale e non permettere a nessuno di violare la propria libertà e non violare la libertà degli altri. Credo sia importante soprattutto la sensibilizzazione attraverso il mezzo della scuola. Assolutamente la scuola deve avere un ruolo fondamentale, quasi di attivismo, per sensibilizzare quei giovani che magari non hanno un interesse o non sono informati di queste situazioni spiacevoli. Dobbiamo fare di tutto per evitare che questa guerra, che continua a portare morte, distruzione, fughe da quel paese, dobbiamo trovare mezzi e strumenti di tutti i tipi che abbiano come obiettivo principale la ricerca della pace. Vale a livello di associazioni territoriali, vale a livello di istituzioni, vale a livello di organismi nazionali e internazionali. Tutti insieme alla ricerca di questo obiettivo. Ma vale non solo per la guerra in Ucraina, ma per tutte le guerre che sono presenti nel mondo. Tanti stamattina dicevamo proprio in piazza Trento Trieste a seguire la cerimonia, molti ferresi, ma anche diversi turisti e i nostri microfoni, le loro impressioni sul significato del 25 aprile, sulla festa della liberazione in un contesto, quello internazionale, che vede una guerra proprio alle porte dell'Europa. Sentiamo. Siete di Ferrara? Sì, sì, siamo di Ferrara. Qua tutti gli anni, primo anno? Certamente, tutti gli anni. È uno spettacolo che non si può perdere, secondo il mio punto di vista. E in questo momento, con quello che sta succedendo a livello internazionale, che significato ha secondo voi? È ancora più significato. Dovrebbe le istituzioni fare qualcosa un pochino più di impegnativo per me, perché la guerra è brutta. Sono bambini, poi quando vedo gli anziani, anche adesso, mi scusi, mi trema proprio il cuore, veramente. Oggi è importante la fine della guerra. Io sono qui per ricordare mio nonno, mia mamma, che mi hanno parlato di come è andata durante la guerra e cosa volevo dire il 25 aprile per loro? Io sono qui per rappresentare loro in questo giorno, che credo sia molto importante. Noi siamo di Biella, arriviamo dal Piemonte, siamo venuti giù a far visita alla città e poi oggi ci fermiamo per la manifestazione per il 25 aprile. Le manifestazioni come quelle di oggi, come questa di oggi, in questo contesto internazionale e anche europeo, che significato hanno secondo lei? Oggi come oggi ancora di più, per cercare di capire anche quello che stiamo vivendo e cosa abbiamo vissuto e l'importanza comunque della liberazione. Avrebbe mai pensato, a distanza di tanti anni, che ci fosse ancora la possibilità per l'Europa di una guerra così vicina? No, 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 no. Perché comunque con tutta l'informazione e con la storia non sarebbe più dovuto succedere e invece sembra anche incredibile doverla rivivere in qualche modo. ecco, no, non ce lo saremmo mai aspettato nessuno, credo. Questo è un 25 aprile un po' particolare con quello che sta succedendo? Altro che, sì, sì, è veramente... Sì, bisognerebbe essere tutti qui presenti e festeggiarlo perché la libertà è una cosa che sta piano piano andandosene quindi dovremmo essere più partecipi. Che cosa dire ai giovani? Ai 18 anni e ai 15 anni? Ai 18 anni, che sono anche i miei nipoti, io direi di partecipare, di ascoltare, di capire e non solo giocare col telefonino. Beh, cercare di capire perché nascono le guerre che ancora oggi credevamo impossibili invece purtroppo si avvenono perciò bisogna far lavorare la mente che ciò non arrivi più. Anche farli partecipare, informandoli, cercando di fargli capire che non è necessario una guerra per poter essere liberi o per poter conquistare qualcosa. No, bisogna informarli e non stufarsi mai. E come abbiamo sentito anche dal sindaco di Ferrara per la prima volta alle celebrazioni del 25 aprile appunto a Ferrara in città hanno partecipato i rappresentanti della brigata ebraica con il loro gonfalone. Il 25 aprile ha detto il loro direttore deve recuperare le radici e la verità della guerra di liberazione deve rappresentare la storia e non essere deviato dalla politica e dalle fazioni. Abbiamo voluto dedicare anche alla città di Ferrara questo canto e a dedicarlo a tutti i caduti soprattutto della brigata ebraica ma anche a tutti i caduti per la nostra libertà. È un canto di una ragazza come ho spiegato che ha combattuto nella brigata ebraica Anna Shenez, ebrea ungherese che partendo dal suo kibbutz dalla Palestina mandataria è venuta a combattere. È un canto intenso è molto amato da tutto il popolo ebraico e quindi ho voluto dedicarlo. Perché è importante ricordare non dimenticare soprattutto pensando che certe cose non possano più succedere ma purtroppo si ripetono? Purtroppo le cose succedono e diciamo noi abbiamo voluto commemorare oltre i 3.000-5.000 volontari che dai kibbutz di Israele dell'allora Palestina sono venuti in Italia molti sono morti a Piangipane abbiamo nel cimitero militare di Piangipane ci sono 33 lapidi con la maghen David con la stella di Davide che orgogliosamente portiamo e sono venuti qui volontari ecco quindi noi abbiamo voluto rendere onore a questi ragazzi che erano ragazzi che potevano stare tranquillamente nelle loro terre invece sono venuti qui a morire anche noi del popolo ebraico abbiamo due grandi due grandi parole Bechor che è il ricordo Zachor scusate che è il ricordo viviamo nel ricordo di tutte le persone che nella Shoah ma anche in 5.782 anni hanno incontrato Amalek cioè il nemico colui che ha voluto la distruzione del popolo ebraico però abbiamo anche Atikvah la speranza la speranza quando anche siamo nel momento più nero più terribile noi risorgiamo andiamo avanti abbiamo la forza di andare avanti questo che auguro a tutti soprattutto ai ragazzi andiamo sempre avanti Yalla Kadima e sono state numerose le celebrazioni del 25 aprile in tutta la provincia estense sentiamo come si è ricordato l'anniversario della liberazione fuori città da Cento a Copparo da Argenta a Bondeno a tante altre località l'anniversario della liberazione è stato celebrato in tutta la provincia con diverse iniziative nella località del Guercino il sindaco Edoardo Accorsi insieme all'assessore regionale Paolo Calvano ha reso omaggio ai caduti coltivando la memoria della resistenza ma specificando che è necessario guardare con angoscia a quanto sta accadendo nell'Europa orientale alla feroce guerra che la Russia ha scatenato contro uno stato sovrano causando migliaia di morti tra la popolazione civile e anche nel proprio esercito mostrando l'assenza di qualsiasi rispetto verso la vita umana il primo cittadino ha quindi chiesto pace e ricostruzione benessere giustizia equità a Vigarano Mainarda il sindaco Davide Bergamini ha parlato del 25 aprile come simbolo della rinascita del nostro paese grazie al sacrificio di tanti cittadini che hanno lottato per una causa comune la libertà abbiamo invitato i giovani vigaranesi a partecipare alla commemorazione ha dichiarato il primo cittadino in quanto soltanto attraverso la consapevolezza e diffondendo la conoscenza nelle future generazioni possiamo contribuire ad affermare i valori della democrazia ad Argenta il sindaco Andrea Baldini ha ricordato l'anniversario con la sindaca e dei ragazzi Cecilia Neri mentre al War Gap Cemetery più Europa ha celebrato la liberazione con le bandiere di Stati Uniti Gran Bretagna e Israele in omaggio ai caduti sepolti nel locale cimitero insieme alle bandiere di Ucraina Unione Europea e Nato sotto il cui ombrello difensivo dichiara ci sentiamo più sicuri Bondeno ha scelto di celebrare la festa nazionale con l'inaugurazione di una targa dedicata alla memoria di Giuseppe Tiracorrendo caduto il 20 aprile 1945 in località Zerbinate al confine tra i comuni di Bondeno e Terre del Reno all'età di soli 23 anni la targa è adesso collocata presso l'omonimo parco Tiracorrendo antistante al polo dell'infanzia del capoluogo tante le autorità politiche civili e militari presenti per suggellare il momento a partire dal sindaco della città Simone Saletti a Codigoro il sindaco Sabina Alice Zanardi dopoverde posto corone di alloro davanti ai monumenti ai caduti disseminati tra le frazioni del capoluogo ha concluso in piazza Giacomo Matteotti le celebrazioni del 77esimo anniversario della festa di liberazione riflettere sul valore dei diritti dell'uomo primo fra tutti quello di poter vivere in pace è il forte messaggio che ci ha consegnato la resistenza ha ricordato richiamando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella infine una storia che arriva da Copparo nelle cascine della campagna copparese occupati dai tedeschi vennero trattati bene ma per un motivo agghiacciante lui era un bimbo biondo con gli occhi azzurri decretato dunque ariano con viva emozione Giorgio Pollastri è testimoniato come il suo aspetto a poco più di 4 anni abbia garantito la salvezza della sua famiglia in tempi terribili e violenti una testimonianza per mantenere viva la memoria collettiva che è stata al centro della cerimonia del 25 aprile a Copparo ciò che sta accadendo ci dimostra quanto abbiamo bisogno di non dimenticare la nostra storia nazionale ed europea ha dichiarato il Sindaco Fabrizio Pagnoni Cambiamo argomento torneremo nella fine di questa edizione ancora sul 25 aprile parliamo del Covid il coronavirus scala il numero dei contagi da Covid-19 un centinaio in meno rispetto a ieri dove però purtroppo nel bollettino di anno si registra un nuovo decesso anche a livello regionale cale il numero di nuovi contagi però aumenta leggermente la pressione sugli ospedali 234 nuovi contagi e un decesso questi dati riportati dall'ultimo bollettino pandemico relativo a Ferrara e alla provincia estense i nuovi casi di coronavirus in 24 ore registrano un importante calo ma purtroppo Ferrara piange una nuova vittima un uomo di 95 anni per complicanze da Covid-19 calano anche a livello regionale i nuovi positivi sono 3.403 mentre aumenta il numero dei nuovi guariti che sono quasi 4.900 in Emilia-Romagna si registrano ancora altri 8 decessi a causa delle complicazioni apportate dal Covid i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali regionali aumentano lievelmente sono 38 di cui 2 a Sant'Anna Ferrara e aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.475 53 in più rispetto a 24 ore fa e cambiamo ancora argomento ci occupiamo adesso di arte Ferrara sarà protagonista a Parigi per la prossima settimana quando sarà presentato il nuovo spazio Antonioni vediamo di che cosa si tratta Ferrara vola in Francia nel segno del grande cinema e dei grandi registi e artisti figli della sua terra come Michelangelo Antonioni da martedì 26 a giovedì 28 aprile all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi sarà presentato il progetto del nuovo spazio Antonioni dedicato al premio Oscar ferrarese che sarà completato tra il 2023 e 2024 con sede al Padiglione di arte contemporanea della città estense inoltre nell'occasione della presenza in terra francese una delegazione istituzionale con il presidente della fondazione Ferrara Arte Vittorio Sgarbi sarà al Petit Palai per la mostra dedicata a Boldini di cui il comune di Ferrara è tra i principali prestatori d'opera il programma prevede nel dettaglio un'intera serata dedicata da Antonioni all'Istituto Italiano di Cultura l'appuntamento è mercoledì 27 aprile dal tardo pomeriggio dopo i saluti introduttivi a cui parteciperà anche Enrica Fico moglie di Antonioni regista sarà proiettato anche il suo documentario allo sguardo di Michelangelo in cui Antonioni interroga il Mosè di Michelangelo torniamo a parlare in chiusura del 25 aprile il 77esimo anniversario ieri ha porotto l'omaggio ai martiri vittime degli eccidi nazi fascisti del 1945 che ha avuto un momento di grande impatto emotivo quando un gruppo di giovani studenti di Porotto hanno rivissuto il martirio subito 77 anni fa da 10 giovani antifascisti giovani che ieri si sono identificati nelle ombre di quei ragazzi tornati a parlare di sé ai loro coetanei di oggi sentiamo sono venuto per vedere cosa fanno gli uomini di oggi si hanno capito capito cosa ha passato e perché sono morto morto anche tu sei morto sì a dire il vero non sono semplicemente morto mi hanno ucciso proprio qui in questo piccolo paesino il 24 marzo del 1945 insieme ai compagni Ugo e Luciano a me invece hanno preso la notte del 20 aprile 1945 insieme al mio compagno Walter ci hanno attirato con un inganno nel buio della campagna ci hanno sparato alle spalle Walter è fuggito si è salvato io sono rimasto dentro a quel fosso non ce l'ho fatta scappare ho pianto pensando alla mia famiglia l'ultimo sguardo l'ho rivolto alle stelle che illuminavano quella notte pregando che non andassero a prendere anche loro quella notte hanno preso anche altri sei amici sono entrati nelle loro case chissà come facevano a sapere dove abitavano io invece sono nato in Belgio mio padre onorato era fuggito lì perché era perseguitato dal regime siamo tornati a metà degli anni 30 mi è stata tolta la possibilità di vivere la mia vita di costruirmi un futuro e tutto questo per aver espresso il mio pensiero in un'epoca nella quale non era consentito farlo avevo 20 anni e Renzo il più piccolo di noi ne aveva soltanto 17 ho passato momenti terrificanti a nascondermi dai fascisti e un giorno qualcuno mi ha tradito vita ma quella che abbiamo vissuto è stata vita non credo non credo che vita sia nascondersi da chi non la pensa come te soltanto l'uscire di casa per noi rappresentava un pericolo perché un passo falso poteva essere fatale lo zio me l'aveva detto quella sera di non andare a casa avrei dovuto ascoltarlo avevamo più paura in quei giorni perché sapevamo che c'era una lista avrei preferito nascere in quest'epoca ma il destino non ha voluto ha voluto così e allora ho scelto di essere un partigiano e di stare dalla parte della libertà abbiamo perso tanto quel giorno abbiamo perso la vita che avevamo ancora davanti e quella che nonostante gli anni passati non avevamo ancora vissuto avremmo voluto anche noi una libertà da per scontata una famiglia adesso la dittatura non esiste più e nel nostro paese potete vivere liberi ma il timore che ritorni c'è ancora nessuna conquista per sempre pensate a quello che sta succedendo alle porte della nostra Europa non è poi così lontano fate attenzione prendetevi cura della vostra libertà con tutte le forze i ragazzi appartengono a scuole frequentano la prima superiore in tutti in istituti diversi i ragazzi in realtà erano i miei ex alunni alla scuola di Fondoreno avevo questa caratteristica particolare di avere un alunno che proveniva da Galliera e questo Galliera Fondoreno io li ho visti uniti in questa cosa e insomma li ho un po' stimolati all'inizio e poi hanno veramente costruito tutto da soli allora chiudiamo qua con questa importante testimonianza il nostro tv giornale a me non resta che ricordarvi il nostro sito la nostra pagina facebook e il nostro canale youtube grazie di essere stati con noi arrivederci grazie a tutti